L'esperienza progettuale più distante in questo momento è l'esperienza di Tokyo, dove abbiamo avuto la possibilità di progettare il Fiat Caffè. Il Fiat Caffè è un'esperienza divertente perché ci ha permesso di sperimentare all'estero un po' l'Italian Style o l'Italian Design, portare con un marchio forte italiano, che è quello di Fiat, una linea, un disegno, un tratto molto forte. Non fa parte del tradizionale disegno di un progetto, ma è un disegno calzato molto su un'idea giapponese, su un modo di essere giapponese. Abbiamo avuto modo di approfondire il rapporto con i giapponesi, capire cosa volevano. In un ristorante un giapponese vuole un tipo di divano e non una sedia di un certo tipo, vogliono determinate cose piuttosto che non altre, ed è stato molto interessante confrontarsi con loro. Il progetto di Fiat Caffè di Tokyo è un progetto su tre piani, un edificio in Aoyama, in pieno centro Tokyo, dove il piano terreno è dedicato allo showroom, a un punto vendita dove è esposta una sola automobile, che è stata la 500, e continua ad essere la 500 alternandosi nelle varie versioni, perché ha avuto un successo veramente importante in Giappone. A un primo piano però si è voluta studiare l'italianità, e l'italianità al di fuori del sistema carrozzeria, disegno, design, automobile, è stata tradotta sotto forma di cibo. Quindi Fiat Caffè è uno showroom dove c'è un ristorante, un bar molto importanti, o forse c'è un ristorante, un bar italiano all'interno del quale vengono vendute automobili. Non si sa bene quale sia la logica di tutto questo, ma la logica è che l'Italia esiste perché ha una sua tradizione, una sua cultura, e ce l'ha in ambito di design, e nasce da tradizioni culturali che si portano dietro naturalmente il cibo e tutto quello che sono i valori aggiunti legati alla progettazione e alla tradizione del nostro paese, che hanno un valore fortissimo all'estero, e questo abbiamo avuto modo di sperimentarlo in prima persona. I nostri progetti sono rispettati fino all'ultima vite. Cambiare la testa di una vite, da una vite croce a una vite taglio, è una richiesta che viene fatta specificatamente e in maniera assolutamente professionale dai giapponesi quando devono cambiare qualcosa. Non c'è un'iniziativa, c'è la volontà di condividere un progetto che sanno benissimo che nasce con delle tensioni molto precise e che se viene modificato, forse anche in un dettaglio così minimo, può in qualche maniera venire penalizzato. Il progetto del Fiat Caffè è stata un'esperienza molto interessante, che ci ha portato a ragionare su come esporre un prodotto, un prodotto automobilistico, come caratterizzarlo. E tutto questo ci ha portato alla fine ad avere un rapporto con gli esecutori giapponesi veramente molto interessante. Chi ha realizzato poi questo locale è stato uno scenografo molto bravo giapponese che ha seguito la lettera del nostro progetto, col quale noi abbiamo dialogato praticamente ogni giorno. Il risultato poi è quello che oggi si vede ed è un locale veramente molto piacevole e molto interessante.